Buongiorno, primo piano, la Repubblica, l'allerta su esercito italiano, guerra in Ucraina, Stato Maggiore, su larga scala, tutti i mezzi mili, allarme pacifisti, Stato Maggiore, allarmi della Nato, forze armate, pronti a combattere, in assetto di guerra, boom di spese militari, ai nostri militari serve addestrarsi, organizzazione delle caserme, allarmismo, spazio atlantico, Putin vuole Ucraina la Nato e Putin lo sa benissimo, accusata di fascismo, polemica, Togliatti e Lenin, i gerarchi rossi, droni USA a Sigonella, Missili sui civili, bombardamenti, profughi, sono coprifuoco, nostalgia russa, sparano a chi tenta di scappare, attacco pesante, pronti a combattersi, prepara al peggio, secondo una talpa di servizi segreti russi, cecchini sembravano scomparsi, ancora vittime, cresce il dissenso, gli obiettivi dello zar, dal bunker, la mamma di tutti i bimbi ucraini, Putin ragiona come un criminale, i prezzi fuori controllo, a rischio 1,4, Draghi taglia prezzi, l'extragetito dell'IVA, deficit, il piano del governo in crisi, L'autocertificazione, l'Europa in ordine sparso, misure anticrisi, pressing della Francia, timido calo dei prezzi, mentre Draghi non scuce un euro, rigassificatori galleggianti, bassa burocrazia, farina, pasta, verdura e PNRR, c'è la gente da sfamare, l'obiettivo ora sarà in default, la BCE farà riverberare nel resto del mondo onde finanziarie, la grande fuga, l'addio, voltano le spalle a chi paga il crack russo, chi ci guadagna, Salvini, riportata da tutti i quotidiani, Papa, Covid, quinta ondata, i nuovi casi, la variante 2 è veloce e sfugge agli anticorpi, gli esperti, roadmap, green pass, tampone, impennata della curva, mentre il resto d'Europa riparte, scenari politici, tira della Meloni, fa irritare Giorgia Meloni, i giochi di palazzo, ma non è finita, da Forza Italia, è tutto per questo appuntamento.